C'è nessuno? C'è nessuno? Fermi! Fermi! Siete ufficialmente prisionieri del Terzo Rai! Vaffanculo al Terzo Rai! Cos'hai detto? Prova e ripetelo, ti sparo una pollottola in fronte, hai capito? E allora perché avete invaso la Bologna e la Germania non vi bastava? Silenzio! Siediti Schwarz! Ho fallito! Fermo a tutto, ho perso le chiavi dell'aereo. E' esploso! Ah, già già già!